Il giudice deve offrire di se stesso l'immagine di una persona seria, equilibrata, responsabile. L'immagine di un uomo capace di condannare, ma anche di capire. Solo così, egli potrà essere accettato dalla società. Questo, e solo questo, è il giudice di ogni tempo. Se apparirà sempre libero e indipendente, si mostrerà degno della sua funzione. Se si manterrà integro e imparziale, non tradirà mai il suo mandato.